Di eventi, quella che si sta per aprire a Senigallia, tra tante novità e anche conferme. Il Comune di Senigalli è confartigianato, uniti per dar vita ad una stagione estiva ricca di eventi. Una collaborazione molto importante, che dimostra quanto sono vive le attività del territorio, nonostante l'impatto della pandemia. Finalmente riportiamo al centro dei nostri temi il lavoro e chi promuove il nostro territorio, quindi si rinnova la sinergia con il Comune di Senigallia nella logica di promuovere al meglio le nostre attività, le nostre tipicità. I nostri territori abbiamo bisogno di ottimismo e di dare una visione di speranza ai nostri imprenditori e alle persone. L'obiettivo è quello di mettere in piedi eventi che valorizzino Senigallia, oltre a destagionalizzare il turismo e a rilanciare l'economia della città. Con Fartigianato ormai sono diversi anni che produce un cartellone estivo di eventi e siamo veramente molto contenti perché sono eventi ormai strutturati che fanno parte a pieno titolo del calendario estivo di una città importante come Senigallia. Quindi coinvolgono il nostro tessuto imprenditoriale, coinvolgono i cittadini, coinvolgono i turisti e quindi mettono veramente al centro l'impresa e mettono al centro anche i nostri territori. Si comincerà domenica 20 giugno con Piazza Artigiana per poi proseguire con il mercatino mensile di antiquariato e quello di artigianato. Confermata la fiera del disco in programma il 14 e 15 agosto, mentre la novità è data dal format I Barbieri della Notte che vedrà 12 barbieri professionisti lavorare in piazza per tutta la sera. Fino a pochi mesi fa noi avevamo una grossa incertezza sul fatto che queste manifestazioni potessero essere portate avanti. La speranza è che ce la si potesse fare. Devo dire che tutto è grazie anche alla perseveranza di confartigianato. E anche il Comune ha scommesso su queste manifestazioni come su tutto il cartellone estivo che qui a Senigallia è particolarmente pieno per l'estate, nonostante fino a 10-15 giorni fa la sensazione era che quest'estate sarebbe stata estremamente blindata.